Il progetto è un progetto Occhio agli ospiti di San Domenico e continua il progetto già premiato nei tempi passati, che aveva tra l'evoluzione e la città di San Domenico. Questo progetto è un medico di scuola di Montuccio, l'Istituto Statale d'Arte, creata la città di Reggio Emilia e come museo i musei civici della Reggio Emilia. Allora, risolviamoci in Reggio Emilia e nelle tante biblioteche con una selezione ovvia dei 120 alunni coinvolti in questo progetto. Prego.